Onorevole a Turoscotto, oggi è incontrato il commissario prefettizio di Quarto, un incontro, si può dire interlocutore, ma su cui avete posto il problema su diversi argomenti di importanza per tutta la città. Abbiamo chiesto al prefetto Nicolò di essere inflessibili rispetto alle zone d'ombra che si sono determinate nel corso degli ultimi anni nel comune di Quarto e che hanno portato allo scioglimento. Inflessibili perché noi vogliamo che la legalità venga applicata integralmente e che chi ha sbagliato paghi, perché quando un comune viene sciolto per infiltrazione camorristica c'è una lesione della democrazia e questa lesione va sanata. Avete parlato anche di argomenti pratici tipo la privatizzazione dell'acqua, dei lavoratori della multiservizio in particolare? Noi siamo estremamente preoccupati del destino dei 64 lavoratori della Quarto multiservizi, siamo convinti che bisogna offrire subito una risposta perché anche un posto di lavoro perso in un comune come Quarto è una tragedia sociale in più e in questo momento non è possibile, non è immaginabile alimentare ulteriormente il circuito del disagio, della disperazione e della disoccupazione. Accanto a questo abbiamo mostrato al prefetto tutta la nostra preoccupazione rispetto ai rischi di un processo di privatizzazione della gestione del servizio idrico di Quarto, tant'è che noi avanzeremo di qui a un paio di settimane e una nostra autonoma proposta come Sinistra Ecologia e Libertà.